Proseguiamo i nostri approfondimenti in coda al TG serale con le varie categorie coinvolte e abbiamo ospite in studio il dottor Roberto De Santis, medico di medicina generale. Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora io partirei subito perché l'abbiamo sentito anche nell'incipit del nostro telegiornale di questa campagna vaccinale nato anti-covid dopo l'accordo siglato, il grande apporto dei medici di medicina generale anche per sgravare la mole di lavoro del sistema. Quindi che ruolo reciterete anzi perché abbiamo il rappresentante e come vi state organizzando? Allora sarà un apporto importante perché giustamente più che altro il medico di medicina generale ha il polso un po' della situazione per quanto riguarda anche i pazienti più sensibili, più fragili. In una prima fase ci occuperemo delle vaccinazioni soprattutto domiciliari perché sono i pazienti che non escono da casa, che hanno necessità di essere vaccinati e successivamente, credo subito dopo Pasqua, potremo organizzarci per la vaccinazione alle altre categorie. Noi ci stiamo orientando per il punto di vaccinazione territoriale che è stato proposto nell'accordo regionale che è stato fatto recentemente, dove ci potremo organizzare anche con il personale di studio e con i volontari che ci danno una mano per poter realizzare una vaccinazione adeguata da un punto di vista strutturale e anche da un punto di vista di sicurezza. Chiaramente vaccineremo i pazienti, come ho detto prima, a domicilio. Ci sarà qualche collega che vaccinerà i colleghi anche nel proprio ambulatorio. C'è anche questa possibilità. Tendenzialmente però la maggior parte dei medici vogliono orientarsi verso il punto di vaccinazione territoriale. Ecco, non so se avete già approntato una struttura organizzativa, già fissato delle date proprio per accelerare i tempi di questa campagna vaccinale. Sì, il problema è, come sapete bene, l'approvvigionamento dei vaccini. E certe le dosi, sì. Adesso so che intanto si è andata avanti con la vaccinazione delle persone ultraottantenni. Con il nostro ingresso ci sarà un'ulteriore accelerazione verso la totale copertura vaccinale e poi passeremo alle prossime categorie. Date precise purtroppo ancora non le abbiamo, perché più che altro è legato molto anche, come ho detto prima, all'approvvigionamento dei vaccini, che deve essere chiaramente garantito. È una cosa importante, perché noi ci siamo trovati in una situazione difficile nel periodo autunnale quando dovevamo vaccinare per l'influenza. Purtroppo questi vaccini non sono stati per vari motivi forniti in modo adeguato, per cui ci siamo trovati veramente in una situazione di grande disagio con i pazienti. Speriamo che questa volta ci sia un'organizzazione più adeguata. Sì, capillare, anche perché soprattutto quando si passerà ai fragili, il vostro ruolo può essere utile a sistema per censire, insomma individuare e poi vaccinare anche i soggetti, quindi sgravare il sistema di prevenzione ASL che è oberato, come sappiamo, di lavoro ormai da un anno, ma come del resto anche voi. Veniamo alle cure per i pazienti Covid in isolamento domiciliare. C'è stata nelle scorse settimane questa ordinanza del Tar del Lazio per il piano terapeutico, perché è chiaro che con il Covid a casa non è che si può attendere ancora la vigile attesa dopo un anno di pandemia. Quanto è importante che questo schema terapeutico venga recepito anche dalla regione Abruzzo e poi come si cura, cioè come li curate questi Covid a casa? Parliamo sempre di numeri, ma vediamo anche le terapie. Anche lì bisogna individuare il paziente, perché giustamente ci sono varie categorie di pazienti, il rischio per il paziente Covid è differenziato a seconda delle categorie. Il problema del Covid è che è una malattia nuova che non conosciamo appieno, non abbiamo possibilità terapeutiche completamente confermate. Adesso si stanno facendo degli studi, stanno uscendo delle nuove possibilità terapeutiche. A breve avremo gli anticorpi monoclonali, che forse dal mese di giugno potranno essere utilizzati anche per i pazienti territoriali. Però quella è una sentenza importante, perché dà fiducia all'opera del medico, che deve essere comunque non di vigile attesa, ma di intervento. Il medico deve intervenire quando si deve intervenire utilizzando l'antinfiammatorio, il cortisone, l'antibiotico, l'eparina. Queste sono le categorie farmacologiche utilizzate per lo più, in quelle circostanze, in quelle condizioni dove si devono utilizzare per evitare che ci sia una progressione. Ripeto, purtroppo questa è una patologia nuova, una patologia anche che molte volte dà luogo a degli aggravamenti improvvisi, che non sono prevedibili purtroppo. Però io vedo un miglioramento notevole anche nella possibilità di cure, anche grazie alla capillarizzazione. Le USCA sono state molto utili per questa evenienza, perché ci hanno dato una grande mano, la collaborazione con le USCA è stata sicuramente molto utile. Dopo un anno c'è stata anche un'evoluzione nel protocollo delle cure, perché è evidente che con 37,5% non si può dare il cortisone, se i bronchi sono liberi. Certo, il cortisone non va dato, vanno date altre terapie, vanno date eventualmente anche la tachivirina, gli antinfiammatori, per lo più adesso si tendono ad utilizzare più gli antinfiammatori, l'ibuprofene, eccetera. Però bisogna individuare caso a caso, non è possibile generalizzare. No, 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 questo no. Allora, tamponi e vaccini, medici di base in prima linea, dalla campagna con i test rapidi per i propri pazienti, ora sta per partire anche la campagna vaccinale con i medici di base. Questo è servito per smuovere qualcosa dal punto di vista istituzionale per il famoso ambulatorio unico? Sicuramente. Voi ci siete stati, non vi siete tirati indietro, però le istituzioni sembrerebbe che sono sordi. Certo, noi abbiamo attuato, grazie anche alla collaborazione con il Comune di Sulmona, Croce Rossa e Protezione Civile, abbiamo organizzato questo gruppo tamponi, che hanno eseguito i tamponi nel Palazzetto dello Sport. È stato molto utile, siamo riusciti a individuare diversi positivi, abbiamo effettuato circa 700 tamponi, individuando circa 25 positivi. Quindi 25 potenziali focoletti. Adesso stiamo calcolando bene, perché finiremo domani, perché purtroppo i tamponi sono quasi terminati, però dovranno riarrivarci, riforniranno di tamponi, però adesso dobbiamo sospendere questa attività. Quindi domani sarà sospeso questo? Domani sarà l'ultima giornata, poi lo riprenderemo appena arriveranno, appena avremo i tamponi a disposizione, insomma. Ed è stato molto utile anche questo lavoro di gruppo che è stato fatto, molto importante, perché ormai la medicina sta evolvendo verso delle necessità differenti rispetto a prima. Prima il medico di medicina generale aveva un lavoro più semplice, adesso l'abbiamo molto articolato. Abbiamo soprattutto bisogno di personali di studio, abbiamo bisogno di infermieri del territorio e abbiamo bisogno di strutture che possano in qualche modo permettere una organizzazione appunto strutturata della medicina generale, della medicina del territorio. Attualmente diciamo che le varie dirigenze dell'ASL non ci hanno accontentato per quanto riguarda soprattutto Sulmona. Sappiamo che Sulmona è l'unica zona dove non c'è ancora una medicina di gruppo strutturata, perché non è stato possibile realizzarla. Adesso con i nuovi interventi, anche finanziari, che saranno effettuati a breve, credo che riusciremo a realizzare qualche cosa. Dobbiamo stare molto attenti, perché questo a Sulmona si realizzi. è necessario avere una medicina di gruppo, strutturare una casa della salute o casa di comunità, come si tende a chiamare oggi, e un ospedale di comunità. È un obiettivo che noi ci siamo prefissati ed è un obiettivo importante per la qualità della gestione della salute territoriale. È molto molto importante. Credo e penso che sia la politica che la ASL non sia insensibile a questa cosa. Penso che si capisca come debba essere assolutamente tenuta in considerazione. L'ambulatorio unico, come mi viene da risolverare il progetto dell'unità di cure primarie, cioè tutto quello che serve per collegare la sanità sul territorio e quella ospedaliera. La pandemia ci dovrebbe insegnare che questo scollamento deve finire. Per chiudere, dopo un anno di pandemia, vale la pena ricordare che il medico curante è il primo punto di riferimento per il paziente, prima ancora di intassare l'ospedale o piuttosto il centralino ASL. Sicuramente avete avuto un contatto con i pazienti, al minimo sintomo, al più grande, al più piccolo dei dubbi. C'è ancora chi sottovaluta il rischio? Qual è la vostra sensazione alla luce anche dei contagi dopo un anno? C'è ancora chi sottovaluta il rischio, questo è vero. Diciamo che un anno di pandemia ci ha sicuramente aiutato a capire tante cose. Bisogna dire che le persone sono stanche di questa situazione. Si vuole ritornare a una normalità che per adesso non è possibile avere. Noi dobbiamo puntare molto sulle vaccinazioni, dobbiamo stringere i denti, dobbiamo avere chiaramente ben chiaro che queste misure devono essere rispettate, anche se sono dure da sopportare, soprattutto per i ragazzi, per i giovani, che non possono fare una vita come si faceva prima. Ma credo che nel tempo, nel tempo anche abbastanza breve, riusciremo a ottenere una vita normale, una vita come c'era prima. Quello che volevo dire a proposito della vaccinazione, mi raccomando di capire come... C'è bisogno di un'organizzazione che prevede una progressione nelle vaccinazioni. Noi non possiamo vaccinare tutti quanti nello stesso giorno. Ma ecco, ci vuole anche in questo una certa maturità da parte delle persone. Un approccio culturale diverso. Un approccio, diciamo, esatto, razionale. Quindi aiutateci in questo, cioè noi ce la mettiamo tutta, però si deve anche capire che ci vuole pazienza. Piano piano riusciremo a vaccinare tutti. Anche perché la bacchetta magica non c'era nessuno, le dosi devono arrivare per poter essere inoculate. Però sicuramente l'apporto dei medici, speriamo di arrivare, come ha detto Gian Sante, all'80% degli immuni per l'autunno. E soprattutto che poi ci sia questo picco a fine mese per ricominciare a rallentare un po'. Esatto, esatto. Perché effettivamente diventa una resistenza di nervi dopo un anno, soprattutto per chi è stato sempre sul fronte, non sulla poltrona, no? Medici, noi cronisti, chi fa un tipo di informazione, ma i medici ospedalieri, insomma, tutti gli attori. Allora, io ringrazio... Grazie, grazie a te, Andrea. Sono interessanti, se avremo modo di risentirci sicuramente. Senza. Bene, e ovviamente vi ricordo, anzi vi invito, prima di chiudere, a visitare il nostro sito internet, www.ondatv.tv per restare aggiornati su tutte le notizie. È davvero tutto per questa edizione. Grazie per aver scelto Onda Riggi, che come di consueto, torna domani. A tutti una buona serata. Grazie. Grazie.